E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche questa sera attorno al nostro update riguardo ai mercati finanziari in particolar modo i mercati delle criptovalute andremo a vedere un paio di visioni molto interessanti con delle metriche altrettanto immersive nel mondo delle stablecoin perché sapete bene che le stablecoin sono un parametro fondamentale da tenere monitorato e scopriremo tra poco il perché quindi se questi contenuti vi fa piacere riceverli con continuità vi invito a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati insomma sapete quanto sia importante rimanere sul pezzo in questo settore che cambia dal giorno alla notte e noi partiamo vi invito a dare un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione con le ultime promo legate appunto agli exchange che collaborano con il canale e noi partiamo partiamo da questa metrica o meglio da questa chart che ho preso da twitter dove praticamente si va a identificare un pattern di cap and handle il pattern di cap and handle è un pattern praticamente in italiano a tazza dove si va a fare una specie di round qui sulla sulla sull'action del prezzo quindi si va a disegnare una coppa se vogliamo si va poi a stornare a disegnare il manico e la zona di breakout è la zona che va tra la prima partenza del ribasso alla partenza del double top praticamente a cui si arriva con la mossa insomma con l'ultima run finale a questo punto si va in correzione se si disegna appunto questo pattern a manico e si brecca questo livello si può iniziare a dare un target il target da cosa identificato identificato dal breakout all'appunto minimo che raggiunge la coppa ok a questo punto se la trasliamo dal breakout in in alto arriviamo a un minimum price target che in realtà è un target che io rimango sempre molto conservativo su questi pattern per tenerlo un pochino più basso di quello che è però insomma addirittura tra i 36 mila dollari barra 32 33 in realtà tutto questo non è una cosa così strana perché di base il propellente per andare a dare una move di questo genere solitamente deriva appunto dalle stable coin e questa è un grafico di sentiment che appunto combina la market cap delle prime cinque stable coin appunto nel tempo quella è disegnata questa market cap è disegnata da questa 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 retta questa linea che retta questa linea verde e praticamente vedete che tutta la fase di burran della prima parte della burran appunto le stable coin hanno seguito in market cap hanno continuato a seguire anche nella fase correttiva e soprattutto nella seconda parte dove siamo andati a fare quasi praticamente un double top è iniziato a decrescere quando abbiamo perso appunto il lo e quindi siamo andati nel cosiddetto bear market lo siamo andati in bear market proprio sulla perdita come vi ricordo del lo a questo punto l'anche la market cap delle stable coin si è ridotta si è ridotta anche visti i fatti accaduti visto tutto insomma il i casini passatemi il termine tecnico che abbiamo subito in quest'ultimo anno anno e mezzo però è comunque vi invito a ragionare una market cap ancora molto elevata guardate comunque a che livelli stiamo parlando livelli comunque più alti rispetto al precedente alla precedente seconda leg up anche per arrivare a fare questo primo pump sui 62 mila dollari siamo comunque a un punto più elevato di market cap e questo fa un po pensare anche che sono soldi che possono entrare in gioco perché detenere stable coin e non fiat currency perché comunque si tratta di liquidità pronta fast che può tranquillamente riversarsi all'interno del mercato quindi tutta questa roba qua che cosa ci fa intendere ci fa intendere che la benzina comunque è presente il propellente lo abbiamo se si innesca una scintilla anche in short squeeze di questo livello lo vedremo tra pochissimo può andare davvero a esserci la liquidità necessaria la liquidità si trova sideways ok nel lato pronta a comunque poter agire e entrare in gioco è una certa secondo me diciamo abbastanza semplice ma molto molto significativa fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti altro a grafico abbastanza di oppium questo dove si va un po identificare con le candele esci le ai kinesci che sono delle candele dove vanno un po eliminare quello che è il rumore di base del prezzo candele mensili si va a evidenziare come effettivamente il trend sia tornato in verde e quindi siamo usciti insomma da questa fase ribassista che era durata parecchi parecchi mesi e questo questa metrica è combinata col mfi che cos'è è un indicatore un oscillatore simile all'rsa in realtà ma va a apprezzare un po di più il money flow quindi la liquidità in entrata che ha toccato questo punto punto di minimo punto di minimo che vedete nelle precedenti run ha scatenato poi un rialzo e quindi una conseguente bull run ovviamente ancora presto per dirlo però sicuramente bitcoin dal suo minimo ha già performato molto bene si sta allontanando da quelle zone lì e quindi più passa il tempo più ci allontaniamo dai minimi dei 15 mila dollari più le probabilità che questo parametro possa seguire a rialzo e possiamo andare a combinare appunto tutte queste queste indicazioni tutte queste metriche acquisisce maggiore significatività andiamo a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore troviamo solar che non conosco che fa un più 25 per cento un più 241 settimanale ing inactive protocol che fa un più 8 dogecoin un più 4 mask un più 3 bitcoin cash un più 3 fracture un più 2 di ydx un più 2 e via discorrendo nient'altro da segnalare tra i losers abbiamo aptos un meno 7 ed era un meno 4 xrp un meno 3 phantom un meno 2 arbitrum un meno 2 gmx un meno 2 e anche qua nient'altro di particolare da segnalare questo perché comunque bitcoin nella giornata di oggi ha un po oscillato in maniera un po un po brusca siamo andati a ritoccare a ripescare liquidità questa mattina nelle ore 7 ne avevamo parlato di come questo box di liquidità era un box di estrema attenzione dove il prezzo poteva andare a rimbalzare infatti ha avuto il suo il suo bounce back e infatti dalle 9 e le 10 siamo andati a ritornare sui 28.500 dollari successivamente i volumi non sono stati così elevati siamo andati in un'ulteriore contrazione però manteniamo l'andamento sideways quello che voglio aggiungervi all'analisi di questa mattina è appunto questa situazione che va a combinare un po quello che ci siamo detti in apertura allora innanzitutto da un punto di vista tecnico stiamo tenendo bene queste zone di liquidità con delle buone risposte da parte dei volumi abbiamo la 12 ema che continua a seguire il movimento le medie mobili ben spiegate a rialzo ci danno comunque l'idea del momentum del prezzo quindi momento positivo il discorso è questo questa zona qua tra i 30.000 e i 32 è una zona di estrema liquidità quindi se riuscissimo ad attraversarla o comunque a pescare e quassù si generasse uno short squeeze avremo davvero la benzina necessaria probabilmente per arrivare anche ai 35.000 dollari ai 34.000 o 35.000 dollari questo perché? perché di base sicuramente questo livello qua è un livello super shortato super shortato quindi se si innescasse liquidità e si andasse a ditta triggerare appunto gli stop loss che saranno tutti i posti qua sopra banalmente tutti in queste zone qua praticamente potremmo avere proprio l'effetto contrario di una adesso non così adeggerata però di un'accelerazione magari in queste zone qua per poi ritornare a sostare magari al di sopra di questi livelli ok? questo è uno scenario è uno scenario molto interessante secondo me da valutare ovviamente non sono né consigli trading né finanziari come sempre fate voi le vostre scelte altrimenti se questa zona qua non dovesse tenere ma per il momento ve l'avevo già detto questa mattina ve lo dico già da un po' di tempo da un punto di vista probabilistico la formazione di prezzo non mi dispiace non mi dispiace assolutamente potrebbe tranquillamente andare a lateralizzare comunque andare a riprovarci o comunque mantenersi abbastanza forte se così non fosse come vi dicevo questo prima zona liquidità interessante altrimenti la più importante è questa qua sui 26 27 mila dollari 26 5 27 mila dollari in prossimità anche della 26 ema ok in questo momento è qui che va a supporto altrimenti abbiamo i 25 5 abbiamo dei buoni livelli di supporto e questi li abbiamo proprio perché il prezzo li sta andando a creare quella sua action un action che tutto sommato rimane interessante rimane nella parte alta della sua move detto questo non voglio dilungarmi oltre perché il resto ce lo siamo già detti spero che le metriche di cui abbiamo parlato nella prima parte del video possano essere state di vostro interesse di vostro gradimento se così è vi invito a lasciare un bel mi piace ad iscrivervi al canale con clic sulla campanellina prima ne sempre aggiornati noi ci vediamo prestissimo con un altro update date ovviamente un'occhiata ve lo ripeto ai link che trovate sotto in descrizione bitgate ok ex insomma un po di tutto appunto che hanno delle promo esclusive per la community e noi ci aggiorniamo prestissimo con un altro update ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti